Come si gestisce il passaggio dal cartaceo digitale? A che punto siamo? Siamo in mezzo al guado perché il processo di transizione dalla carta al digitale ha avuto un'accelerazione molto forte negli ultimi 5 anni, però diciamo che abbastanza avanti negli Stati Uniti dell'America dove siamo al 20% di quota di mercato del digitale sul totale dell'editoria, in Italia siamo ancora molto indietro, in Europa siamo ancora molto indietro e nella presentazione cercherò di fare il punto sulle cause di questo essere un po' più indietro nel guado. Comunque sia le spinte al passaggio al digitale sono fortissime per numerosi motivi e quindi diciamo che quella è la destinazione certa di gran parte dei prodotti editoriali, anche qui bisogna vedere quali, però diciamo che in gran parte i prodotti editoriali di cui oggi usufruiamo su carta sono in fase di transizione verso il digitale. Benissimo, ma quello che lei ci dice, possiamo considerarlo valido solo per l'editoria commerciale o può valere anche per l'editoria istituzionale? Ma direi che vale per tutti i tipi di comunicazione, quindi comprende anche l'editoria istituzionale. Le istituzioni italiane a che punto sono? Questa è una domanda un po' complessa perché mi sembra che anche qui ci sia una spinta molto forte soprattutto al passaggio di informazioni su web, quindi sulla parte internet. La spinta istituzionale è forte, l'Italia è debole rispetto ad altri paesi proprio nell'infrastruttura, nel senso che come vedremo nella relazione non siamo molto ben messi come connessione a internet rispetto al panorama internazionale, non siamo assolutamente ben messi.